Arrivando alla Galleria dell'Accademia di Firenze avviene qualcosa di particolare. I nostri occhi sono portati a guardare in fondo, a quella nicchia rinascimentale prospettica. Lì vi è il Davide di Michelangelo, realizzato tra il 1501 e il 1504, simbolo della Repubblica, dove doveva essere posizionata in Piazza della Signoria. E così fu. Ora vi è giustamente una copia, mentre l'originale è protetto dalla ruce radente della galleria. Può girarci intorno al Davide, la sua bellezza, i suoi muscoli, la sua pose elegante classica, il chiasmo dei movimenti. Sono una calamita per gli occhi e per il pensiero, quella mano grande e infinita. Purtroppo, da così lontano, non si nota facilmente il dettaglio più affascinante dell'opera, lo sguardo. Davide è ritratto un secondo prima dell'attacco a Golia. Questa è la novità assoluta dell'iconografia michelangelesca. Di solito gli artisti del passato avevano ritratto e scolpito Davide alla fine del combattimento, nel momento della vittoria e della coscienza del fatto avvenuto. Davide vince sul gigante Golia. Ma Michelangelo decide di ritrarlo nel momento prima dello scontro, nel secondo prima in cui Davide si concentra, ragiona e con il suo intelletto, non con la sua forza fisica, vuole vincere sul gigante possente. Lo sguardo è fermo, attento, la fronte magicamente corrugata. Anche la scultura qui è arte di intelletto, non solo la pittura, come affermava Leonardo da Vinci. Michelangelo descrive l'uomo rinascimentale in David, l'uomo della filosofia, della filologia, della cultura, del pensiero e della vittoria tramite la mente, non tramite la forza e la violenza. Questa è la forza del Davide e del buonarroti, la sua descrizione della vittoria, dell'intelligenza sulla forza. Dicevo però che succede qualcosa di strano entrando alla galleria dell'Accademia di Firenze. La nicchia con il David è in fondo, alla fine del percorso, alla fine. Perché sulla strada per arrivarci, come un percorso catartico, siamo circondati dagli stupendi, affascinanti, potentissimi, fisici prigioni di Michelangelo. I prigioni erano i personaggi principali della tomba di Papa Giulio II, quella che divenne un po' l'ossessione per Michelangelo. Schiavi umani della materia, del peccato, del dolore, che cercavano di librarsi e di liberarsi per vivere il pensiero e la libertà. E allora nel nostro percorso incontriamo lo schiavo che si ridesta, lo schiavo detto Atlante, lo schiavo barbuto, lo schiavo giovane. Interessante se ci pensiamo. I prigioni furono realizzati da Michelangelo tra il 1525 e il 1530. Ovviamente dopo il David, quando Michelangelo per primo scoprì il potere del suo, e dico solo suo, non finito. Eppure questo percorso, a ritroso nella mente e nell'arte dell'artista, un suo senso profondo lo nasconde. Perché Michelangelo creò la sua arte a ritroso, come vediamo nelle sue pietà, la perfezione all'inizio e il disfacimento della materia, della carne. Così, come con il David ai prigioni, Michelangelo descrisse il potere dell'intelletto e poi il potere del corpo. Ma il senso profondo era sempre quello. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, che un marmo solo in sé non circoscriva col suo soperchio. E solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto. Rime Michelangelo Bonarroti dal sonetto numero 151. Lui liberava l'idea della materia. L'uomo doveva liberarsi dall'ignoranza, dalle catene, dal dolore. L'uomo con l'intelletto e il pensiero avrebbe potuto distruggere e vincere Golia. La lotta per la libertà dell'uomo, descrive Michelangelo, in ogni opera della sua vita. La costanza, la forza, la determinazione di corpo e mente unite nella battaglia per liberare l'idea. Come lo scultore doveva liberare l'opera già presente nel blocco di marmo, ma con la mano che ubbidisce all'intelletto. Il pensiero, la forza della conoscenza, dell'intelligenza, della filosofia era unita alla forza fisica, con tutta la sua genialità, con tutto il suo amore verso l'arte che fu suo idolo e monarca. Il nome dell'arte, il nome dell'umano. Tutto si gioca in quell'istante. Gli occhi di David sono decisi, attenti. Tra un secondo scoccherà la sua fionda, la mente e il corpo teso verso quell'istante, verso quella sudata, voluta, bramata libertà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.